Ciao cari amici, in questi giorni si parla molto di Alexei Navalny, blogger russo, strumento della propaganda occidentale sul territorio della Federazione Russa, che è stato messo in carcere con l'accusa di truffe e poi di altre accuse nei suoi confronti che l'hanno portato a una condanna di circa 20 anni, lui doveva scontare 19 anni dopo la condanna perché un anno è già passato nelle carceri, comunque si parla molto di Alexei Navalny, si difende, si accusa, ci sono persone che senza nessun reale fondamento, senza alcun tipo di confezza, ferma dalla parte della realtà oggettiva, hanno già diffuso le loro sentenze, è stato Putin di persona che è andato lì, l'ha avvelenato, l'ha ucciso con un colpo segreto di karate, di forze speciali russe, hanno scritto un sacco di bagionate di ogni tipo. qua bisogna dire che il sistema occidentale quando sfrutta gli elementi del genere provoca di solito questi scenari inverosimili che poi dopo si sgonfino come palloncini di fronte alla realtà oggettiva, però nel momento in cui vengono trasmesse sembra veramente guardare un film Netflix. Comunque io in questi giorni ho prestato attenzione a ciò che era Navalny per spiegare al pubblico occidentale chi era questo personaggio, come io e altri russi lo ricordiamo, come coloro che hanno seguito la politica russa a partire dagli anni 90 ricordano la sua ascesa, la sua adesione al nazifascismo, i suoi primi esperienze nelle organizzazioni naziste in Russia e poi la sua magica trasformazione in un politico liberale, in un grande democratico ovviamente sponsorizzato da Soros e così via. Ci sono tantissime cose che si possono dire su Navalny, sulla sua attività, però questo video vorrei dedicare a una serie di luoghi comuni che vengono diffusi oggi da propaganda occidentale, da diverse persone che non conoscono la Russia, non conoscendo la Russia vivono di propaganda, di luoghi comuni e cercano di convincere le persone che Navalny era chiuso in una specie di gulag appositamente portato al nord dove si sta peggio, dove insomma condizioni sono brutali e così via. Ovviamente questa narrazione è, come spesso succede, diametralmente opposta alla realtà e adesso io vi spiego il perché. Come succede spesso i russofobi, i vari propagandisti occidentali quando parlano della Russia parlano utilizzando i luoghi comuni inerenti ancora all'Unione Sovietica. Quindi a me mi spesso capita di sentire, ecco Nicolai tu difendi il regime di Putin ma se tu fossi trovato in Russia ti manderebbero in Siberia. In Siberia ovviamente intendono in Siberia nei lager gulag che ormai non esistono. Comunque oggi molti non sanno ma le carceri che si trovano sul territorio della Siberia vengono considerati in Russia tra quelli meglio gestiti e più protetti. Per quale motivo? Perché il sistema penitenziario in Russia funziona in tale modo che in ogni regione ci sono una serie di strutture penitenziarie che sono a carico della regione. Quindi le regioni più ricche, le regioni dove ci sono più soldi, dove ci sono meno problemi dal punto di vista economico, i sistemi penitenziari vengono gestiti meglio. Siccome la Siberia è un luogo estremamente ricco, dove ci sono molte persone ricche, dove girano tantissimi soldi perché lì c'è il gas, c'è il petrolio, ci sono i diamanti, c'è un sacco di attività redditizia, ci sono anche più soldi nelle casse delle regioni. Le regioni hanno più possibilità di investire, investire anche nei sistemi penitenziari. Per questo ad esempio a partire da metà degli anni 2000 i sistemi penitenziari in Siberia vengono considerati in tutta la Russia tra i migliori dal punto di vista di gestione, ma anche dal punto di vista di modo di amministrare. Per questo molti criminali preferiscono veramente finire in Siberia che stare in qualche carcere nella Russia centrale, vicino alle grandi città. Adesso vi spiego un po' come anche funzionano le carceri in Russia e voi capite perché il personaggio come Navalny finito in carcere che si chiama I.K. numero 3 nella cittadina Harp della regione autonoma di Yamala-Niniecki, regione autonoma in pratica al polo nord. Per quale motivo? Il sistema carcerario russo ancora oggi si divide in due importanti strutture gestionali, ovvero carceri rossi e carceri neri. Carcere nero è un carcere dove la presenza della criminalità organizzata è talmente importante che l'amministrazione non solo fa fatica a gestire questa criminalità organizzata, ma spesso diventa uno strumento di criminalità organizzata presente in questa struttura. Di solito carcere nero è un luogo dove vengono concentrati tanti rappresentanti della criminalità organizzata, creano tra di loro delle connessioni, minacciano l'amministrazione carceraria con rivolte, suicidi di massa e in cambio l'amministrazione carceraria cede a loro il diritto di organizzare e gestire la vita dei detenuti. Quindi l'amministrazione carceraria in pratica cede una grande parte del proprio potere alla criminalità organizzata. I carceri neri si trovano soprattutto nei luoghi vicini alle grandi città, nei luoghi vicini, ai grandi percorsi stradali, ai grandi raccordi, alle grande tappe, ad esempio la tappa verso la Siberia, attorno alla transiberiana tutte le carceri, quasi tutti, sono neri. Se invece si allontana dalla transiberiana i carceri diventano diversi. Quindi carcere nero sta lì dove nella società attorno è forte la criminalità organizzata. Per questo motivo le carceri di Mosca, di San Petroburgo o di altre grandi città prevalentemente sono nere, sono gestite dalla criminalità organizzata. Le carceri sicuri, i sistemi penitenziari sicuri non solo carceri ma anche i lager, lager lavorativi, quando io dico lager non bisogna pensare alle strutture tipo Gulag o Germania nazista. Oggi in Russia lager lavorativo è una struttura dove vorrebbe finire ogni criminale, perché è molto libero nella gestione, si può passeggiare nella foresta, andare a lavorare, ad esempio tante persone lavorano nelle foreste, hanno possibilità di, hanno ad esempio un tot di lavoro che devono fare al giorno e poi per il resto del tempo li lasciano liberi, quindi questi passeggiano nei boschi, si possono fare un fuoco, cacciare, alcuni anche riescono a mettere le trappole, cacciano animali, mangiano, ci sono dei video tantissimi, ci sono tantissimi testimonianze che raccontano di questa vita in queste strutture. Poi ci sono prigioni, ci sono una specie di misto tra prigione e lager lavorativo che si chiama Colonia, dove ci sono le baracche oppure ci sono i luoghi dove si dorme, i dormitori, non sono vere e proprie celle, e per questo sono più preferiti dai detenuti, perché si sta insieme, perché ci sono televisori, c'è internet, c'è la possibilità di uscire e fare un giretto fuori senza chiedere permesso a nessuno, se uno vuole può lavorare, ci sono le ospedali sul territorio di queste strutture e proprio in una di queste strutture è finito Alexei Navalny. Lui è finito nella Colonia Correttiva numero 3, che si trova in questo luogo che si chiama Harp, Harp nella lingua locale significa l'aurora boreale nordica, e lì storicamente dal 1961 si trovano le strutture penitenziarie, perché lì lavoravano i detenuti che costruivano la strada nordica e poi dopo queste strutture sono state ampliate e così via. Quindi strutture nere sono quelle nei quali governano i criminali, come vi ho detto prima. Strutture rosse sono quelle dove governa l'amministrazione. Ovviamente tra strutture nere e strutture rosse, per le persone che non fanno parte della criminalità organizzata, è più sicuro stare nelle strutture rosse, mentre i criminali preferiscono sempre essere trasferiti nelle strutture nere, dove è più forte il potere dei loro compagni, dei loro rappresentanti. Navalny non era un criminale che faceva parte della criminalità organizzata russa. Inoltre lui era legato ai nazisti, nazisti di un'organizzazione che si chiama Unione Slava, Dmitri Djomovskine era uno di loro. Hanno ammazzato un po' di persone. Nella criminalità organizzata russa questa gente non viene rispettata. Per quale motivo? Perché loro si sono macchiati con dei crimini contro le donne e questa cosa non viene ben vista dai criminali. Non per motivi politici, non perché questi erano nazisti, ma perché loro facevano i crimini che la criminalità organizzata russa non considera crimini, diciamo, giusti e onesti. Rubare oppure, non so, sottrare qualcosa al più forte viene rispettato dalla criminalità organizzata. Se si fa la violenza su una donna, lì i criminali già possono non comprendere il senso di questo crimine e persone di solito che fanno le violenze sulle donne, sui bambini, nelle carceri russi non sopravvivono. Nelle carceri gestite dai criminali. Per questo motivo, nelle carceri rossi di solito vengono trasferiti i detenuti che non fanno parte della criminalità organizzata, non ricidivi, oppure coloro che hanno commesso qualche crimine che può essere visto male dai detenuti criminali. Navalny poteva essere visto male proprio perché lui era legato ai nazisti. Io vi ricordo che in uno dei video vi ho già raccontato che uno dei nazisti noti, tra l'altro, lui faceva parte di organizzazione Unione Slava che era un'organizzazione alla quale era affiliato Navalny con il capo di questa organizzazione, Navalny era amico e facevano insieme, svolgevano insieme varie manifestazioni. Il nazista che faceva parte di questa organizzazione, che si chiamava Marzenkiewicz, il suo soprannome era Manaia, è stato ammazzato proprio in uno di questi carceri perché aveva commesso dei crimine nei confronti delle persone che venivano considerate deboli perché era uno xenofobo. I criminali non amano xenofobi perché nella criminalità non esiste la questione razziale. I criminali in Russia sono una specie di congrega di persone che hanno le stesse idee, stesso comportamento, ma non si dividono per la religione, etnia e così via. E ovviamente quando arriva qualcuno che dice io sono bianco, sono russo, quindi sono suprematista, e ho più diritto di voi che siete, appartenete ai popoli caucasici oppure arrivate dalla Siberia, oppure arrivate dall'Asia o da Oriente, la gente così non sopravvive nella collettività dei criminali. E quindi Marzenkiewicz ha fatto queste fine, le hanno tagliato la gola e poi le hanno detto che lui si è suicidato da solo. Per evitare che Navalny facesse la stessa fine di Marzenkiewicz, lui non è mai stato messo nelle carceri neri dall'inizio. Navalny prima si trovava in un carcere rosso protetto dall'amministrazione e poi dopo, quando le hanno dato tutti questi anni che lui doveva scontare, quando è finito il processo, lui è stato trasportato in uno dei più sicuri carceri della Russia. Questo non capiscono molte persone che dicono ah, hanno chiuso Navalny in un carcere al nord dove fa freddo, una specie di gulag. L'hanno chiuso lì perché lì è il luogo più protetto, dove lui tra l'altro stava bene. In questo carcere, molti non lo sanno, ma in questi carceri c'è diritto di stare con la propria famiglia. C'è, ad esempio, Navalny già passava il tempo con propria moglie, stavano insieme tre giorni perché ogni detenuto che viene tenuto in questi carceri ha diritto una volta al mese di stare tre giorni con la propria famiglia, con la propria moglie. Loro stanno insieme in una struttura separata, in una casetta, tra l'altro anche in Italia ci sono queste cose qua. Io non dico che questo è un paradiso dove uno sta bene, è sempre un carcere, è sempre una cosa brutale, è sempre una cosa che io non augurerò neanche a un mio peggior nemico di andare in carcere. Però se a me propaganda mi dice che Navalny è stato trattato veramente come un dissidente dei tempi sovietici, mandato dei cattivi putiniani a soffrire in Gulag dove ha dovuto passare le pene d'inferno, perdonatemi ma io non sono d'accordo con questa disamina perché io so benissimo che dal punto di vista di realtà oggettiva lui è stato trattato dal sistema putiniano in maniera più che rispettosa e anche più attenta dal punto di vista della sua sicurezza. Veramente se Navalny fosse stato messo in un carcere nero lui avrebbe subito riscontrato una serie di grossi problemi. lui e la sua famiglia, ad esempio cosa succede quando un detenuto che non fa parte della criminalità organizzata, una persona che non è un detenuto che viene tenuto in carcere in base alla ricidività, alla criminalità, ai crimini commessi, uno che non ha ucciso, non ha svolto l'attività di rapinatore delle banche, uno che ha sbagliato una volta nella vita oppure ha fatto un crimine politico oppure insomma che non fa parte della criminalità organizzata finisce nel carcere nero. Cosa succede? A casa sua, appena lui entra nella cella comune, subito nella casa sua arriva un personaggio che fa parte della criminalità organizzata, suona la porta e i suoi familiari spiega una situazione, dice guardate vostro familiare che si chiama così, cosa ha Pinco Pallino che è stato condannato per questo articolo che deve scontare questo tipo di condanna si trova in questo carcere, in questa cella insomma le fa capire che lui lo sa benissimo chi è il loro familiare e dove si trova. Se volete che lui sta bene, che lui mangia, beve, che nessuno lo tocca e che di notte non cade giù dalla branda e si spacca la colonna vertebrale ogni mese, voi dovete fare versamento su questo conto bancario oppure portare i soldi in contanti a questo indirizzo a questa persona, oppure acquistare un, non so, qualche prodotto ci sono una varietà dei modi di pagare a questo sistema di racket carcerario che esiste purtroppo ancora in Russia nelle carceri neri. Proprio per evitare a Navalny questa fine per evitare che lui, pieno, sfondato di soldi e tutti lo sanno, e criminali lo sanno benissimo chi è Navalny e sicuramente se lui fosse finito nella cella comune in un carcere nero le avrebbero subito detto caro mio, adesso scrivi veloce, veloce la lettera ai tuoi familiari noi questa lettera la facciamo dare a loro e così loro cominceranno a pagare e tu inizierai a vivere bene qua perché se loro non pagano tu inizierai a vivere male, molto male queste cose succedono in tutti i carceri neri proprio per evitare questa cosa Navalny è stato trasferito in un carcere rosso un carcere sicuro perché sicuro? perché si trova al nord non ci sono grande comunità criminali attorno tutto controllato dall'amministrazione non ci sono possibilità di creare un passaggio di corruzione all'interno delle strutture di queste carcere proprio per questo loro si trovano lontano si trovano lontano per evitare che la corruzione possa creare un passaggio continuo di soldi di materiale e di altre cose che reggono all'interno del carcere la comunità criminale al di sopra dell'amministrazione una cosa che bisogna dire sulle condizioni di vita di Navalny in carcere Navalny stava in un carcere dove lui poteva camminare tranquillamente sul territorio della colonia non solo non era chiuso dentro una cella assolutamente no lui passeggiava faceva dei suoi geretti lui volendo poteva anche lavorare lì c'era una fabbrichetta loro di solito i detenuti di quelle carceri nordici sono occupati nel mestiere di sartoria allora fanno i vestiti per lavoro uniforme per militari e così via quindi volendo uno può anche lavorare hanno un accesso al telefono possono chiamare a casa hanno internet possono avere telefonini lì permesso di avere telefonini perché telefonini nelle carceri russe sono proibite dove c'è la criminalità organizzata mentre nelle carceri rossi non c'è nessun problema i detenuti possono avere telefonini in effetti Navalny si faceva le foto con le sue guardie tra l'altro Navalny spesso combinava diciamo delle proteste organizzava delle cose per cui qualche volta è finito anche nella cella di isolamento perché è riuscito a combinare casino anche in un carcere diciamo tranquillo sereno come quello in cui è stato messo lui ovviamente doveva farlo perché in qualche maniera doveva dimostrare ai suoi curatori occidentali che lui fa prigioniere di coscienza però cari amici se noi guardiamo la realtà oggettiva l'incarcerazione di Navalny la sua presenza in un carcere rosso in un carcere protetto il modo in cui lui era trattenuto anche ciò che raccontava la sua moglie ad esempio la sua moglie è stata quella che un anno fa aveva lasciato un'intervista dopo aver fatto la visita a Navalny in questo carcere dove loro insieme sono stati tre giorni in una casetta a parte e lei ha detto ma sì cioè in realtà questo è come un albergo di tre stelle insomma non è così brutto come insomma potrebbe pensare o come dicono alcuni cioè è stata lei stessa a dire queste cose e bisogna dire che in questi carceri di solito chi si comporta bene chi come Navalny non ha commesso i crimini prima di essere trasferito in un sistema penitenziario dopo qualche anno hanno possibilità di vivere non nello spazio nello stesso spazio con altri detenuti ma hanno possibilità di trasferirsi nel nel villaggio perché sul territorio di questi di questo carcere c'è anche un villaggio per i detenuti dove i detenuti vivono con le loro famiglie ad esempio se una persona ha una lunga condanna però durante gli anni di questa condanna ha dimostrato che non fa parte della criminalità organizzata non fa le non organizza l'attività sovversiva rispetta le regole cerca di costruire la propria vita serena pacifica rispettando le leggi gli permettono di andare a vivere in un altro luogo essere più libero diciamo all'interno di questa struttura per carità però loro non seguono più il regime non si alzano tutti insieme loro vivono con la loro famiglia e magari hanno una serie di obblighi ad esempio frequentare produzione lavorativa dalle nove del mattino alle quattro del pomeriggio con una pausa a pranzo cinque volte a settimana tipo questa è una delle condizioni che hanno quindi tutti quelli che scrivono qua adesso in occidente sul fatto che Navalny era prigioniero di un brutale carcere di un gulag dove è stato maltrato sono tutte informazioni che non corrispondono alla realtà oggettiva cari amici il carcere dove si trovava Navalny è uno dei carceri più sicuri e considerato migliore dal punto di vista di permanenza in tutta la Russia e per questo è stato messo lì secondo me l'hanno messo proprio per evitare che con Navalny possa succedere qualcosa perché sicuramente in un carcere nero lui sarebbe stato nelle mani della criminalità organizzata e lì non è difficile immaginare che per i soldi i criminali avrebbero potuto fare qualsiasi cosa a Navalny però ha anche questa forma di diciamo molto libera e non limitata forma di connessione con il mondo esterno cioè Navalny riceveva costantemente le visite le visite dei genitori le visite dei collaboratori le visite dai suoi avvocati che erano anche i suoi collaboratori della sua fondazione tutto questo comunque avrebbe potuto minacciarlo perché come noi ben sappiamo quando i servizi occidentali vogliono far fuori qualcuno lo fanno spesso anche usando le mani usando le persone che prima collaboravano con l'obiettivo da eliminare in questo caso mi viene in mente la giornalista Politkovske della Politkovske si parla spesso e anche a me mi scrivono molti Nikolai ma come ma tu proteggi la Russia tu parli bene della Russia del regime Putiniano che ha ucciso Politkovske amici Politkovske è stata uccisa ed è una cosa confermata dal punto di vista giuridico perché sono state condannate due persone per omicidio di Politkovske ed è il caso esemplare perché sono stati presi ci sono le armi da fuoco ci sono le loro impronte sulle armi da fuoco quindi c'è tutta una collezione di prove che ci dimostrano chi ha ucciso Politkovske due fratelli ceceni che facevano parte di un'organizzazione estremista cecena che è stata pagata a partire dagli anni 90 dall'oligarca Birisovski quindi di cosa stiamo parlando Politkovske è stata fatta fuori da coloro con i quali lei ha collaborato per gli anni per fare i danni allo Stato russo l'hanno ammazzato i suoi collaboratori di sempre io penso che se in Russia sicuramente ci sono gli omicidi di giornalisti di persone importanti ma molte persone non comprendono una cosa perché valutano la Russia pensando che la Russia è la democrazia occidentale amici e nella democrazia occidentale nei paesi come Italia è necessario a volte per il sistema di eliminare i cittadini oppositori per nascondere i propri panni sporchi per nascondere intrulli tra governo e la mafia e così via in Russia c'è il sistema autoritario autoritarismo cari amici si basa sul fatto che se ne sbatte di tutto e di opinioni di tutti l'autoritarismo è quando c'è un diretto rapporto tra presidente della Russia Putin la sua squadra di potere e il popolo che in gran parte sostiene questa questa struttura di quello che pensano due al massimo 5% dei liberali a tutta questa macchina imponente non ha alcuna importanza per loro per Putin Navalny o Politkovskaya o altri tantissimi giornalisti che vengono dipinti qua come se fossero grandi lottatori per la libertà per loro non rappresentano nessun pericolo soprattutto tanto da ammazzarli sottolineo di nuovo ammazzare la gente così una giornalista che scrive libri oppure un difensore dei diritti umani che denuncia qualche crimine del sistema questo serve in occidente dove c'è un sistema democratico dove opinione di un giornalista può in qualche senso danneggiare l'immagine di un politico di turno perché comunque nella democrazia che è sempre una democrazia castrata quella nostra di cui io sto parlando nella democrazia non c'è autoritarismo quindi i politici comunque hanno un po' un po' di timore soprattutto politici che sono fantocci che rappresentano gli oligarchi perché gli oligarchi lo sanno che appena un politico si sporca lo butto via metto un altro per questo motivo in questo giro malato occidentale un giornalista che affronta un sistema loro cercano di farlo tacere in ogni modo in Russia queste cose non servono il regime non ha bisogno di uccidere fisicamente le persone il regime esiste anche se questi 2 3 5% fanno casino fanno manifestazioni anche se Navalny parla straparla al regime non ha interesse al limite lo usano come una come una dimostrazione l'hanno preso gli hanno dato vent'anni di carcere no ci hai stuffato ti abbiamo hai fatto la tua sceneggiata con avvelenamento sei avvelenato da solo ti hanno avvelenato i tuoi familiari la tua moglie i tuoi collaboratori noi non sappiamo ti hanno avvelenato noi ti abbiamo detto se vuoi andare via ma vattene chi se ne frega vattene vai in Germania non torna più guarda stai lì noi non abbiamo nessun problema cosa è successo lui è stato costretto dalla moglie di tornare indietro essendo in uno stato catatonico dopo l'avvelenamento e allora lì Russia ha detto scusa tu sei un imbecille hai fatto la provocazione hai provato di fare una brutta figura a tutti noi dal punto di vista mediatico noi ti abbiamo comunque lasciato andare sei tornato indietro niente adesso vi facciamo vedere cosa succede con quelli che in Russia si comportano come te e l'hanno sbattuto in carcere per vent'anni che senso c'è di ucciderlo sta in carcere protetto ha una possibilità di vedere la moglie familiari può lavorare può comunicare telefono internet c'è tutto che senso ha di ammazzarlo proprio quando Putin ha preso più potere dal punto di vista di comunicazione in occidente dopo intervista di Tucker Carlson dopo la vittoria ad Avdeevka prima delle elezioni che Putin sicuramente vincerà cosa bisogna fare uccidere Navalny quindi è chiaro che tutta questa cosa è fuori logica quindi io non credo assolutamente nel fatto che il sistema russo ha ucciso Navalny io non credo assolutamente che l'autoritarismo russo ha bisogno di questo tipo di esempi sottolineo perché che loro già gestiscono il loro paese come vogliono del fatto se Navalny muore o vive il potere russo non cambia non succede niente dal punto di vista legislativo dal punto di vista politico in Russia non avviene nessuna scossa tutto tutto questo spettacolo serve solo per l'occidente solo per convincere gli occidentali che la Russia è cattiva che Putin è cattivo bisogna fare la guerra bisogna spendere i soldi bisogna dare le armi agli ucraini bisogna andare là con la Nato e così via ma in Russia la sua morte ha il potere non è non è utile lui era più utile mentre stava in carcere faceva esempio a tutti i suoi simili cosa succede a quelli che imbrogliano il popolo che prendono i soldi dagli occidentali per fare le marchette politiche e così via quindi questa è la mia opinione personale sottolineo ognuno può condividere la propria io spero che nei vostri commenti lo farete amici con questo io vi saluto se avete qualche domanda se avete qualcosa da aggiornare da aggiungere vi invito di esprimervi nei commenti grazie per essere stati qui con me vi invito di fare abbonamento al mio canale privato telegram dove io condivido tutte le notizie che il nostro mainstream occidentale non vuole condividere con noi che di solito censura o strumentalizza il link per abbonamento lo troverete nella descrizione a questo video se volete sostenermi su youtube come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale di commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ricordo che in tutte le librerie c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio lo vedete qua alle mie spalle si tratta di un libro in cui ho raccontato le origini della guerra in Ucraina se vi interessa l'argomento leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate carissimi di nuovo un forte abbraccio vi voglio bene l'argomento